i giovani bisogna sempre dare pronta la mano per lo meno chi ha il piacere di darla come dovere io lo sento e l'ho sentito sempre come dovere io oggi di anni ne ho 75 con 54 anni di lavoro e ho sempre frequentato ho cercato sempre di guardare l'espansione della professionalità sentivo parlare poco fa del dialetto ecco sì 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 ma il dialetto vedete bisogna sempre mantenerlo perché la lingua italiana la dizione che bisogna studiarla bisogna sempre mantenere il dialetto anche pensare il dialetto per poi recitare l'italiano perché lì trovi la verità se uno rifiuta il dialetto che gli sembra non so una forma di abbassamento sembra brutto ecco è come se fosse un albero senza radici e l'albero senza radici non cresce così come il talento se non si mette in agitazione in in studio in visione questo è una professione che fino a 105 anni ammesso che uno ci arrivi si impara sempre qualche cosa non è che hai un limite bene avuto successo il successo prima di ogni altra cosa lo dobbiamo avere con noi stessi lì allora vali qualcosa cercare sempre di stare insieme si impara sempre insieme questa è una professione che perfetta per questo periodo per comprensibilità di covid insieme questo mestiere si fa insieme insieme non da soli non si va da nessuna parte non è che il nome l'attore l'attrice famosa famosi arrivano il lavoro è tutto lì anzi è insieme perché c'è chi gli prepara il vestito e quindi il costume la parte tecnica c'è chi prepara le luci e quindi il datore luci chi si si mette nella regia quindi salire su una nave con un progetto che un comandante avvia ma questo non vuol dire che voi non possiate dire diciamo le vostre impressioni sul personaggio sulla situazione collaborare magari senza senza sputare sentenza cercare di capire è molto importante lo studio e la disponibilità